Non solo stupefacenti alla base dei controlli agli imbarcaderi sullo stretto, le fiamme gialle hanno un più ampio mandato ed effettuano verifiche a tutto tondo finalizzate alla repressione di tutti i traffici illeciti. Durante uno di questi hanno scoperto un cittadino di origini calabresi intento a trasportare ingenti quantità di denaro con tante di dubbia provenienza. I militari del gruppo di Messina lo hanno intercettato agli imbarcaderi privati provenienti da Palermo e diretto a Villa San Giovanni. Grazie al fiuto di Heidi, un cane cash dog appositamente addestrato per annusare la valuta, i finanzieri hanno scoperto un ingente quantitativo di denaro con tante occultato all'interno di un borsone riposto nel vano bagaglie dell'auto. Le numerose mazzette di denaro con tante in taglie da 200, 150, 20, 10 e persino 5 euro erano state avvolte in una pellicola trasparente e nastro adesivo da imballaggio, per un totale di circa 600 mila euro. In base ai primi accertamenti, il conduttore dell'auto è risultato un componente di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza, inoccupato e privo di qualsiasi fonte di sostentamento. Quindi, non avendo la possibilità di giustificare il possesso di una simile somma di denaro, le banconote sono state sequestrate e l'uomo è stato deferito a piede libero per i reati di riciclaggio e ricettazione.